Certe volte i videogiochi ti mettono davanti a delle situazioni in cui per proseguire puoi fare solo una cosa. Crepare! Ad esempio all'inizio di Silent Hill 1 sfasi di brutto per correre dietro a sta bambina in mezzo ai banchi di nebbia manco fosse Milano a dicembre, e ad un certo punto finisci in un vicolo lurido da cui saltano fuori sti sgorbi mezzi nudi che ti fanno fuori senza pietà. Meno male che poi ti svegli tutto sudato. Oppure in God of War Ragnarok dove ti stai menando di brutto con Thor e mai andresti a pensare che quello ti fa fuori con una martellata. Schermata dei suggerimenti e ti dici sono proprio una pippa ma al prossimo giro lo scasso. E invece il prossimo giro è subito perché quello ti riporta in vita usando Mjolnir come defibrillatore. Figata essere dio del fulmine. Probabilmente non deve manco pagare le bollette.